vedete inquadrata con gli occhiali Gloria Filippi e lei che ha vinto la medaglia d'oro alla prima edizione dei giochi olimpici giovanili e adesso che sono finite queste finali si passa a quella che è l'iniziativa più attesa dagli appassionati o i sportivi e cioè coloro che si sono iscritti a partecipare per One Shot adesso scoccheranno una freccia a ciascuno dopo che Mauro Nespoli estrarrà i nominativi di chi parteciperà a One Shot ed eccolo Mauro Nespoli pronto a fare l'estrazione Grazie 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 D'Agostino, Pasquale, chissà se è parente di Katia D'Agostino, l'atleta azzurra. Pasquale c'è, almeno lui può provarci. E allora c'è anche il quarto estratto, Giuseppe A, questa è bella perché si è riscritto anche colui che ha allestito tutti i materiali per one shot. E quindi se la gioca anche chi ha portato bersaglio, palloncino eccetera, giustamente può capitare a tutti. Visto che l'anno scorso all'Indoor c'è anche Carla Frangilli tra le estratte. Anche Carla Frangilli potrebbe guadagnarsi la possibilità di vincere un viaggio per due per Istanbul. E' al primo colpo! Il primo estratto si porta a casa due biglietti per Istanbul. Gianfranco Ponzielli, il primo estratto da Mauro Nespoli. si è guadagnato due biglietti per andare ad Istanbul. E allora complimenti a Ponzielli per questo bel premio. e noi ringraziamo il regista di Rai Sport, Fabio Crisafi, che ha condotto un eccellente lavoro. Lo ringraziamo per il lavoro che ha svolto. Grazie davvero per gli sforzi di Rai Sport. È appena passato dietro di noi Fabio Crisafi, regista di Rai Sport. E adesso appuntamento alla cerimonia di premiazione. Noi ci risentiamo fra poco perché dovremo spostare un po' di materiali per l'allestimento della cerimonia di premiazione. Poi torniamo in diretta con voi a raccontarvi le emozioni dei podi di questa 53esima edizione dei campionati italiani Tiro alla Targa qui da Chieti, Corso Marrucino.